E siamo arrivati alla settima puntata, una puntata un po' diversa dalle altre, ma siamo arrivati finalmente al clou di Mistopolini. Era quello che aspettavamo. Ebbene sì, sabato sono cominciati i casting per gli aspiranti Miss e Mister e ne abbiamo viste di tutti i colori. Ma Mistopolini non è solo questo. Vedremo anche una sfilata con le più belle Mistopolini di sempre in riva al mare, in occasione della regata velica dei tre golfi a Mugia. Era il 2010, ma il nuovo appuntamento è già fissato per il 17 giugno. Da non perdere! Rivivremo poi le incredibili atmosfere di una competizione tra giovani stilisti svolta l'anno passato. E moolto altro! Ma che sto qui a chiacchierare? Inizia ufficialmente Mistopolini. Sommario. Mistopolini 2011. Iniziano i casting. Il social network che sta spopolando sempre di più fra le pagine di Facebook. Mi piace! Ecco la prima parte. Una sfilata in riva al mare targata a Mistopolini 2010 per la regata dei tre golfi a Mugia. Mi piace non finisce mai di stupirvi. Ecco l'ultima parte. Switch up!